Io ho scritto una frase tratta da un libro, Nessun luogo è lontano. E pur forse una distanza materiale separarci dagli amici, se tu desideri essere da loro, non ci sei forse già. Auguri la speranza di un futuro pieno di abbracci. Sul mio biglietto c'è scritto Natale 2020, istituto di Gestalt HCC ITA. Hai avuto il spacchetto uguale agli altri, questo l'abbiamo capito, perché c'era la frase d'altro. Ah sì? Io ho scritto con la speranza nel cuore e la presenza in prossimità. Io non ho scritto niente perché fino alla fine non ho capito bene come andava a fare. Però vi dico che mi sembra davvero un miracolo che siamo arrivati a dicembre così. Così sorridenti, così pieni di energia, a me mi sembra davvero un miracolo. Allora io non sono arrivata a scrivere una frase, però vi dico di scrivere una cosa che per me è come se fosse una frase, che è la mia pensione di Natale preferita, che fa così. Allora io non sono arrivata a scrivere una frase, che è la mia pensione di Natale preferita, che è la mia pensione di Natale preferita, che è la mia pensione di Natale preferita, che è la mia pensione di Natale. E' la mia pensione di Natale preferita, che è la mia pensione di Natale preferita, che è la mia pensione di Natale. Ciao!